Ma che se riusciamo a pushare senza manpower sarebbe una gran cosa? Teli impegnati, grazie Ok Il cielo italiano Bene Appena questi la smettono di attaccarmi Teneteli impegnati Perfetto Ok, cerchiamo di ciggere da sedio Lione Non lì ora, scusate Marsiglia White Rutenia, ma di nuovo Che cazzo succede in White Rutenia? White Rutenia è di nuovo viva? La White Rutenia è di nuovo viva Ed è in un'alleanza di nuovo con... Ma che cazzo? Vabbè Non ci preoccupiamo di quello che succede in White Rutenia Nella Rutenia bianca Ok, grazie Teneteli impegnati Dai, questo è un pocket Veloci Arrivare prima Arrivare prima Arrivare prima Arrivare prima Sì, godo Bastardi Via nave Però no Perché ogni volta mi allunga le linee del fronte? Benissimo Adesso Messe Lui Li mettiamo qui così Allunghiamo la sua linea Impiccioliamo questa E ci assestiamo Benissimo Benissimo Ovviamente voglio Manpower Extensive Conscription Quasi un milione di uomini Ottimo Eccezionale Ci sono dei bombardieri Fetenti Ci hanno anche affondato una nave Attuglia le nostre coste A sto punto Che vengono pushati via quei cani A sto punto Giornate tutti Là Non lasciate nessuno Qua indietro Sembra che i francesi Siano belli Saccagnati Il prossimo passo Sono i Pirenei Ok 321 Abbiamo due o diecimila bocche da fuoco Possiamo prendere anche un focus A sto punto Electronic effort Molto bene Planning bonus Com'è Plan preparation 43% Vai Attacchiamo commesse Benissimo Tugustelo Lo vorrei perché Ci serve Ok La linea del fronte è unita È salda Potrebbe anche essere qua Che attacchiamo Poi i tedeschi Sono stati di muovere Spinti Questo non lascia presupporre Nulla di buono Stage 3 La terza parte del nostro programma Iniziativa Due building slot Consiste in varie Nel pulire i territori Molto bene Dai dai Pushate Date supporto Ok dai Bastardi Ok Serve per tenerli impegnati Motare che non attacchino Stranzate varie Allora Capo dell'esercito Divisio Luigi Gasparotto Mario Eroatta Motorizzato Non abbiamo nulla Divisio Attrito Entrenchment Speed Io non possiamo scegliere Non so perché Social Ah perché non è nel nostro partito Vittoria Ambrosio Ok Mario Anche questi non possono essere scelti Division defense Questo non mi piace Mettiamo Ilio O il re Division organization Mettiamo il re Evvivo il re Ok abbiamo pushate anche via da qua alla fine I francesi sono stati completamente spinti Adesso siamo con la Dai su Supriamo sto fiume Ok molto bene Guardi svizzera Le mettiamo a Roma I nazionalisti vincono in Sudafrica Va bene Va bene così Continuiamo con le dottrine Line artillery Dai dai su qua Dovevamo sfondare Morite Morite anche male Ok Nooo Che che ha rinforzato qua Che palle Sultanate d'Egitto e persa Ha segnato una pace bianca Che deduco sia Non sia una vera pace bianca Ma Esatto E' una pace di aggressione In pratica Wow Wow Fufufuf Wow Dai per cane Oh non potete cedere Questo attacco è fondamentale Questo attacco è dannatamente fondamentale Non chiudo l'episodio Ficché non abbiamo finito Questo attacco Tra l'altro Non stiamo costruendo nulla E tra l'altro Se dovessero per caso Attaccarmi Gli austriaci Sono cazzi Da game over Istantaneo Dai su via State fermi Li bastardi Utilizzare un attacco Per bloccarli Qua si continuano a schiantare Contro di questi Fermate sto attacco di merda Lasciamo che siamo loro ad attaccarci Per un po' Va Recuperiamo tutto quello che abbiamo Da recuperare Velocizziamo a 4 Ok Non abbiamo problemi di aerei Di sorta Lasciamo che siano loro ad attaccarci Intanto noi recuperiamo L'economia Non avete bisogno Di addestramenti Cazzo Le guardie svizzere Stanno utilizzando Le mie nuove armi Eh si Tipo L Non le vuole usare nessuno Update Quello catturato Le posso usare Chiunque I tuoi ordini Sono quelli Che ti crea Un nuovo gruppo D'armata Con un generale Competentissimo Direi che basta così Nove divisioni Bastano addirittura Quindi siamo a posto Ne facciamo un'altra tornata E la smettiamo lì Questa è una guerra di trincea Giusto per sicurezza Mettiamo in un'altra Aspettiamo che qua Abbiano recuperato Tutta la loro Quattro divisioni Ridotte male Se no Attacchiamo adesso Ah niente È inutile Less inutile Questi sono già in posizione Vediamo la L'unrest Come dovrebbe calare Meno 5% Oddio Proprio calare Non cala Però Ah no Sta calando Piano piano Ok ok Ci sono dentro Finché sono loro Ad attaccarmi Io non subisco Troppe perite Oddio 146 conto Beh allora Sono mezzo milione Nel primo anno Di guerra Non è male I tedeschi Che però Vengono respinti Mi fanno paura Mi fanno molta paura Comunque Io vi direi Che per questo episodio Tutti Io vi ringrazio Io vi ringrazio enormemente Un saluto a tutti E alla prossima Ciao ciao